Buongiorno a tutti, io sono Isabello Paolo, titolare della Medici Design. La Medici Design è un'azienda che è nata nel 2006, era composta da tre soci. Il terzo socio è andato in pensione, siamo rimasti io e Cristian Pentivolpe. Buongiorno, mi chiamo Cristian Pentivolpe, sono uno dei due soci fondatori della Medici Design. La Medici Design è un'azienda relativamente giovane e si occupa prevalentemente di attrezzature che sono di ausilio, di supporto all'operatore per il controllo dimensionale di tutte le parti che compongono una vettura. Tutto quello che fa parte della vettura, che sia esterno piuttosto che interno, deve essere controllato. Controllato a livello qualitativo e controllato a livello dimensionale. Il controllo che facciamo è relativo a un modello matematico. Una volta che il fornitore ha realizzato il particolare, viene montato sulle nostre attrezzature e tramite dei controlli viene verificato se il fornitore ha realizzato il particolare a matematica o meno. Noi lavoriamo per tutte le grandi case automobilistiche. FCA, Stellantis, Lamborghini, Ferrari. Il cliente ci chiede di ridurre i pesi delle attrezzature. Con l'ausilio di queste stampanti abbiamo iniziato a leggere i ripesi, mantenendo sempre comunque la precisione. CMS ha creduto anche molto in noi perché la prima macchina di additive del mondo è stata destrata presso la nostra azienda. I punti di forza dell'additive io credo che siano il minor peso, che ha un'importanza rilevante, il costo, che effettivamente è minore rispetto alle lavorazioni tradizionali. La costruzione in additive e la precisione erano due cose che non andavano parallele. Adesso invece si è arrivati al punto che si stampa, si è precisi e si monta. Il rapporto con CMS è iniziato nel 2014. Siamo andati da loro perché dovevamo comprare una fresa a cinque assi. Loro sono stati talmente bravi che ce ne hanno venduti due. E da lì è iniziato il rapporto che non è un rapporto fornitore-cliente, è più una partnership. Io riconosco il valore che secondo me è più importante, che è lo stesso che cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi di MDC Design ed è il valore delle persone, il valore umano, il valore che li spinge a ragionare ancora, a pensare ed avere un rapporto di collaborazione che sia ancora consentimento piuttosto che un rapporto freddo. Questo è il valore secondo me più alto che c'è in CMS e in MDC Design. Grazie a tutti.